Musica Adesso con un cartone ritagliato con le misure del condizionatore Cerco la posizione migliore per poterlo installare e la trovo dentro l'armadio Dopodiché glielo presento proprio fisicamente nella posizione che ritengo più opportuna Adesso vado a creare la sesta per la foratura Quindi devo Eccoli Praticamente devo creare la mascherina Per poi andare a fare la foratura Eccoli Dopo aver segnato le parti Ritaglio la carta E la riporto su un cartoncino Che sarà la sesta definitiva Adesso devo creare un piano D'appoggio Cioè il piano dove praticamente verrà messo il condizionatore Come si diceva una volta Prove tecniche di trasmissione E adesso presento la sesta sulla parte anteriore Dopo aver marcato i punti Adesso vado a forare Eccoli Una volta fatto i fori Con la sesta Con la sesta presento il condizionatore E questo è il risultato Che si presenta sulla parte anteriore Ora vado a costruire delle squadre Per poter fissare il condizionatore In maniera che rimanga stabile e fisso In maniera che quando si viaggia Non se ne vada per conto suo Ecco, tanto per capirci Allora fuenti Allora, fino adesso facciamo il punto della situazione Allora Abbiamo rinforzato tutte le masse Le masse Qui abbiamo messo una bella Una bella calza Di massa E dall'altra parte Vi ho fatto vedere prima Che ho messo Una trecciola Allora Poi abbiamo forato Abbiamo forato Abbiamo presentato Il condizionatore E si presenta Alla fine In questa maniera Certamente Ci occuperà Un po' di spazio All'interno dell'armadio Ma non ce ne frega Più di tanto Abbiamo sistemato Il fissaggio Tramite queste squadre Anche qua Dietro Sotto i piedini Sono bloccati Adesso non ci resta Che fare Lo scarico Dell'aria Ecco qui E adesso Vado a tracciare Con la sesta Il posto Dove devo fare Il foro Il posto una volta fatto il foro sulla parte esterna applico la mascherina chiaramente avendo messo prima il Sicaflex ricordatevi questa operazione con il detersivo per evitare che poi il silicone il Sicaflex rimanga da tutte le parti rimane solo nella parte dove interessa a noi allora ci siamo quasi ora sto collaudando il sistema dopodiché non mi resta che mettere le ultime mascherine e ho finito intanto tengo sotto controllo le batterie che mi sembra che funzionino egregiamente l'ultima cosa che ho fatto ho collegato il tubo di scarico fuori e adesso c'erano 27 gradi qua dentro e adesso vediamo quanto tempo ci impiega per abbassare la temperatura già si sta meglio due minuti che è acceso e già è tutta un'altra cosa allora ragazzi amici camperisti eccoci arrivati alla conclusione del lavoro praticamente abbiamo installato un condizionatore un condizionatore portatile e diciamo che fra il condizionatore e tutto il l'ambaradan che ho dovuto comprare cioè l'inverter l'onda pura eccetera eccetera facendo due conti con 200 euro grosso modo ho fatto tutto non è che ho proprio speso 200 euro però 170 veniva quello più 70 sono 240 diciamo 250 euro via con 250 euro ho risolto il problema il lavoro è finito ora vi faccio un po' vedere come è venuto allora praticamente cominciamo dal dal ecco qua praticamente l'ho sistemato in questa maniera qua come vi ho fatto vedere prima ho sacrificato un po' di armadio ma pazienza poi ho fatto le due prese d'aria le due prese d'aria una da una parte e l'altra dall'altra l'altra dall'altro da questa parte di qua poi l'uscita del condizionatore è in questa posizione è in questa posizione qua l'uscita del condizionatore vedete che c'è la griglia sopra ci sono i comandi che devo finire di fare un bordino che lo farò appena appena trovo il materiale giusto e niente cosa vi devo dire fra l'altro ho messo questa griglia che convoglia l'aria in questa direzione in maniera che quando c'è qui il passeggero non gli arriva nel collo ecco qua insomma in poche parole se in poche parole se l'idea vi può venire bene io sono più che contento e quindi non posso fare altro che augurarvi un buon lavoro in bocca al lupo alla prossima